segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ora eccoci qua grazie luca professor monti cos'è successo negli ultimi giorni vado un po a spanne il più grande scandalo dell'europarlamento la prima manovra di giorgia meloni che passa al valio dell'europa e mario monti che dopo la bellezza di 27 28 anni 7 per 4 28 28 dopo 28 anni la conclude la sua presidenza della bocconi e li rendono omaggio personaggi di tutti gli schieramenti da monti ma berlusconi non capito doveva venire però poi la in quell'occasione non c'era ci ha parlato sì certo io l'avevo invitato e lui aveva colto l'invito con sorpresa e affetto direi perché io ho voluto invitare le persone che mi avevano portato in europa quindi nel 94 fu berlusconi a nominarmi commissario e poi successivo cinque anni dopo d'alema e prodi e quindi e poi c'era ursola von derlein c'era il presidente della repubblica purtroppo berlusconi per motivi di salute non ha potuto venire si è stato siamo si è commossa persino draghi e draghi si ogni volta faccio questo persino l'austero monti il sobrio monti può commuoversi raramente raramente quella occasione sì però forse sì ma devo dire sono state scaricate tante generosità verso di me in un giorno che hanno anche compensato le critiche sono sempre ben accette le derisioni e gli insulti quantomeno dovrebbero essere meglio motivati allora parliamo parliamo di una cosa